Allora, qualcuno di voi dirà ma che ti è successo Massimo? E beh, insomma, gioco ancora a calcio, ogni tanto ci si può anche mezzo fatturare il naso. Ma al di là di questo, noi domani sera andremo a vedere che cosa sta succedendo a Salerno. Perché a Salerno c'è un'inchiesta molto pesante sul modo in cui si ottengono i voti per diventare sindaco. È un'operazione molto molto particolare, abbiamo in mano delle intercettazioni incredibili e di questo noi parleremo, ovviamente anche di quello che sta succedendo in Italia, la Green Pass, la lotta del portuale di Trieste. Chi ha perso, chi ha vinto. Ci vediamo domani sera. Allora, non è la rena.